Noi ieri non abbiamo pubblicato il video che riprendeva quella persona morta nel bagno dell'ospedale Cardarelli. Non l'abbiamo pubblicato perché secondo noi quello non è giornalismo. È sufficiente scrivere, dare notizia, spiegare cosa è successo. Non c'è bisogno di mostrare la morte, di mostrare il dolore, di mostrare il fatto sensazionale, di attirare una curiosità un po' morbosa da parte della gente. È come quando si raduna intorno a un incidente stradale per vedere il ferito, per vedere il morto, per vedere la persona che sta agonizzando. Non è giornalismo, quello è solo un modo per fare dei click, che va benissimo, ma noi facciamo un altro mestiere. Oggi invece vi facciamo vedere, vi proponiamo questo video terrificante che è stato girato dai soccorritori di Open Arms che sono intervenuti ieri sera nel Mediterraneo dove stava naufragando un gommone con 100-110 persone a bordo, anzi non più a bordo, in mare, alcuni nuotavano con i giubbotti, alcuni anche senza giubbotti. Sei persone sono morte in questo naufragio, fra cui un bambino di appena sei mesi, si chiamava Joseph. Sono scene strazianti, come è straziante tutta la vicenda. Vi facciamo vedere i soccorritori lì col gommone che cercano di salvare persone e la mamma di Joseph che grida disperata I lost my baby, lo ha perso. In realtà Joseph è stato salvato dai soccorritori, è stato portato nella nave di soccorso. Ma poi occorrevano i soccorsi più grandi, è stata avvertita la marina, non è arrivata in tempo. Non sono arrivati in tempo i soccorsi dei medici, anche perché non è organizzato nessun sistema di soccorsi di Stato ai naufraghi. Gli Stati europei, la loro politica è quella di immaginare che ne muoiono più possibile, così poi non vengono più. Questo è il senso della politica europea o suoi profughi. Lasciare che muoiano, favorire l'autosterminio. Ci sono pochi volontari che combattendo contro la magistratura che li incrimina, combattendo contro la politica che gli fa i decreti avversi, combattendo contro i mass media che li descrivono come dei mass calzoni, spendono le loro giornate cercando di salvare gente. Questi di Open Arms ieri l'hanno fatto ma non sono riusciti purtroppo a salvare la vita di Joseph. Vi facciamo vedere questo filmato perché questo è un documento vero, è un documento che raccolta quello che sta succedendo nel Mediterraneo. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'Europa e l'Italia in particolare stanno dando prova, la peggior prova della loro storia dell'ultimo mezzo secolo. Stanno succedendo delle cose terribili. Forse se ce ne rendiamo conto, se capiamo che cosa avviene in quel tratto di mare e come addirittura gli Stati europei facciano la guerra ai soccorritori, forse un pochino l'opinione pubblica può cambiare idea sui temi dei profughi e dell'immigrazione. Ve lo facciamo vedere per questo, questo filmato.